o lingue diciamo tradice delle ballarie e abbiamo il caoscimo subito avanti c'è paura ecco su diavolo che macchina è in su ce n'è un po' ce n'è un po' vedi proprio vai verso l'apice il caia forse ce n'è più calma la scasa c'è un fuoco dietro la capannetta c'è una baica oggi c'è un cuo manca il fuoco questa è la situazione di strada Varano sta nevicando qui c'è il cristiano che ha fatto quello che volevo fare io che è il partito aprile no già abbiamo visto uno spazzaneve qui non c'è niente e no va giù verso valle non c'è più niente la situazione è abbastanza tranquilla adesso questo è un po' io devo caricare un giro il tutto adesso dobbiamo stop qui di io non vedo un caoscimo vai 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 perché c'ho tutto nere qui aspettate che è un po' opaco un palino ah perché è bloccato vedete qui è la situazione è andata la mattina non c'è niente eh no no infatti qui c'è una strada c'è niente intanto l'ha detto con la giuncita c'è niente vediamo vediamo adesso giriamo per montacuto andiamo a rivedere una zona che potrebbe essere impervia da un punto di vista meteorologica impervia andiamo verso montacuto e passeremo davanti al carcere fra qualche minuto e passeremo davanti al carcere fra qualche minuto qui si mostriva la saga verso montacuto qui pure sembra o pranica tanto eh non sembra dalle immagini pranica parecchia questo c'ha paura questo c'ha una jeep 4x4 a 70mila euro c'è un po' da giù certo questa sfregia a 70mila euro si ho capito ma per terra c'è un coso e vabbè qui c'è tutti gli alberi della strada però le campagne sono tutte belle quindi l'albero già è cascato andiamo adesso fa un po' arriviamo molto acuto e vediamo 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 che tutti gli alberi vediamo la campagna questa è verso le tavanelle tutto bello bianco perché siamo molto acuti proprio ancora no proprio diciamo che siamo vicino al carcere vediamo adesso dietro sa curva c'è il carcere vediamo inizia di aprire un po' una vallata mi sembra un'altra cosa eh è in campagna è un po' le problemi qui siamo al carcere questo è il carcere del Montacurro questa è la bellissima struttura e comunque le neve qui ce ne hai parecchie adesso dico a fare una mano come io non so colpetta che si le mette davanti dentro e niente quassia la situazione sono 8 e 29 8 e 29 ho fatto vedere la prima panoramica adesso speriamo più bruttino un po' dopo faremo morire la seconda se continuo tra l'agosto eh è qui molto meno verso Ancuna e molto meno verso Varà un po' di più eccolo è tutto qui questo è il cartello del Montacurro niente adesso vi saluto ciao ragazzi ah fra poco ne faccio un altro